Il mio impatto con i rally è nel 1975. Di notte vengo rapito dall'immagine della Lancia Stratos all'Italia. Io quando sono un po' abbacchiato così ripenso a quelle immagini e mi faccio dare la spinta da questa cosa qua. Penso che tutti gli italiani siano con noi, siano contenti. Cerchiamo di sapere qualcosa da Cesare Fiori. Cesare Fiori? E chi è? Il pubblico impazziva per questi piloti perché erano dei funamboli. Negli anni 80 c'erano i rally punito. La 0,37 è una macchina che va trattata un po' male. Allora lei ti rispetta. C'era un po' superato il limite. E poi di colpo la Lancia non corre più nei rally. Il rally non lo capisco. Uno guida e non sa dove va. L'altro sa dove va e non guida. Sembra l'Italia. Ho distrutto questa... TAP!